Ok, per questo esercizio vi servirà una benda elastica. Avvolgetela intorno ai piedi, da qua sdraiatevi su pini. Gambe piegate, ginocchia sopra il bacino, piedi alla stessa altezza delle ginocchia. Corra attivo la parte lombare, non dovrà mai andare a essere schiacciata sul pavimento. Da qui una gamba rimarrà ferma, mentre l'altra andrà a estendersi completamente. Ritornerò in posizione di partenza ed eseguirò sempre dallo stesso lato.